Ciao, benvenuti all'ExpoMotori! Ciao, ciao, ciao! Restate con noi che andiamo a trovare un po' di amici! Benvenuti a ExpoMotori 2015, decimo anniversario! De Rapade, salti acrobatici, impennate e sono pronti ad accoglierci alcuni tra i migliori stuntman europei! Roberto, questo è il tuo secondo anno, qui sei preso gusto! Sì, guarda, mi hanno richiamato, ho una grandissima soddisfazione, il pubblico qui è meraviglioso, quindi diamo spettacolo! So che hai partecipato anche a Italia's Got Talent! Sì, proprio qualche giorno fa, sono rientrato in Italia's Got Talent e sono venuto subito qua! Com'è stata questa esperienza? Bella, bellissima! Frank Matano mi adorava, è salito sul quad, provava a fare le cose che facevo io e non ce la faceva! Ma che numero nuovo ci hai portato? Eh, quest'anno abbiamo portato un Razor su due ruote, un Razor 800 e un cambio pilota sulle due ruote, quindi sarà un altro pilota con me e ci alterneremo! E poi so che coinvolgete anche le ragazze! Coinvolgeremo una ragazza, sì, una ragazza per spettacolo verrà presa e le verrà data una tuta come noi, delle protezioni e il casco e proverà quello che proviamo noi, quindi stunt per un giorno! Vai, alla grande! Allora, stunt per un giorno è una prova! Senti, eh! E su, su, la testa, scendi! Scendi con una specie di 69, ma la notte sono molto triste! Salute! Senti, ok! Adesso! 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 Sono bravissimi, zero paura, proprio zero, perché sono bravi loro, ti guidano completamente, fatelo anche voi, è fighissimo!